Chic lit è la curiosa espressione inglese con la quale si definisce un genere letterario emerso negli anni 90 e rappresentato da scrittrici soprattutto anglosassone, autrici di romanzi umoristici e post-femministi, le cui protagoniste sono di solito giovani donne dinamiche moderne, ma quasi nella totalità dei casi con seri problemi nelle relazioni con l'altro sesso. Una sorta di riverente romanzo rosa 2.0 che in Italia trova in Federica Bosco una delle sue firme più amate e proprio Federica Bosco sarà la protagonista del terzo appuntamento con il giardino delle idee estate con il suo ultimo romanzo SMS, storie mostruosamente sbagliate. Una trascinante commedia degli equivoci per sopravvivere alle relazioni ai tempi degli smartphone, la storia narra di Brigitta e della sua appassionata quanto assurda relazione con Luca o meglio con il suo cellulare, l'uomo delle tre S, speciale, sorprendente ma soprattutto sposato. Con il suo irresistibile umorismo Federica Bosco regala un romanzo attuale, romantico e realistico sulle relazioni amorose. Parole e note anche per la terza serata del giardino estivo alla presentazione del libro di Federica Bosco seguirà infatti lo spettacolo di Francesca Messina con la presentazione del suo disco Femina Riddance.